Musica Busius sarà la prima città intelligente dell'America Latina un progetto che è totalmente in linea con ciò che si fa oggi nel mondo e la scelta della città è stata basata su fattori di considerevole rilievo Musica è una città turistica di visibilità internazionale può già contare su punti automatizzati di media tensione sulla rete elettrica ha un numero di clienti significativo per la gestione della domanda attiva possiede un alto potenziale per la generazione distribuita e non ha una grande estensione geografica il che facilita l'uso dei veicoli elettrici Musica Serrano coinvolti più di 10.000 clienti La rete, formata da 4 linee di media tensione 450 trasformatori con 36 MVA di potenza e 55 GWh per l'anno di consumo sarà completamente automatizzata La rete intelligente o Smart Grid integra le tecnologie tradizionali con soluzioni innovative che migliorano la flessibilità e la gestione dell'informazione Guardate ciò che sarà implementato nella città intelligente Busios Gestione intelligente dell'energia Il contatore elettronico misura i consumi con precisione e scambia informazioni tecniche e commerciali Il cliente avrà una totale interazione con le informazioni dettagliate sul suo consumo che potrà programmare in base agli orari chi hanno una tariffa più conveniente Così sarà possibile risparmiare circa il 30% sulla bolletta dell'energia Edifici intelligenti Costruzioni con una tecnologia avanzata che è integrata al sistema di telegestione e che permetterà al cliente di conoscere il proprio consumo Sarà possibile risparmiare spostando l'uso degli elettrodomestici dalle ore di punta e programmando il loro funzionamento negli orari più convenienti Generazione intelligente dell'energia La distribuzione di elettricità è sempre stata unidirezionale dalla centrale al consumatore Ma nella città intelligente Busios il cliente sarà il protagonista e potrà produrre, consumare e immettere energia nel sistema secondo le proprie esigenze Telecomunicazioni, controllo e internet a banda larga ADSL e Wi-Fi Nella città intelligente la rete di comunicazione sarà preparata per funzionare bene anche in situazioni critiche con totale sicurezza delle informazioni trasmesse Illuminazione pubblica intelligente Con la tecnologia Archilede Busios avrà 150 nuove lampade a LED di cui 40 telecomandate per assicurare una riduzione del consumo dell'energia ed una maggiore vita utile degli impianti Ci saranno anche 15 lampade con microgenerazione eolica Veicoli intelligenti Le auto elettriche contribuiscono a diminuire l'inquinamento l'effetto serra e il riscaldamento globale perché riducono le emissioni prodotte dai combustibili fossili In più, l'energia immagazzinata nella batteria dell'auto potrà perfino essere restituita alla rete nei momenti di picco per ridurne il carico Consumatore consapevole ed informato Il consumatore diventerà protagonista potrà amministrare il suo consumo e ridurre le sue spese proteggendo in più l'ambiente potrà scegliere tra consumare o vendere l'energia prodotta a seconda delle sue esigenze I clienti di Busios metteranno in pratica nuovi stili di consumo e sperimenteranno in prima persona i benefici della tecnologia di avanguardia Caratteristica distintiva di Città Intelligente Busios è l'integrazione sociale Attraverso il programma Coscienza Ampla un coinvolgimento continuo della comunità favorirà il consumo consapevole e l'uso efficiente dell'energia Conferenze, seminari, cinema itineranti e corsi di apprendimento raggiungeranno circa 18.000 persone durante i tre anni di durata del progetto Il successo della Città Intelligente Busios risiede nel cambiamento dell'atteggiamento di ogni cittadino che è al centro dell'attenzione L'integrazione delle persone con la tecnologia sarà alla base del cambiamento della città Tutta la tecnologia è stata pensata per ridurre al minimo l'impatto ambientale e per mantenere la ricchezza naturale della regione balneare Tuttavia, la tecnologia da sola non basterà alla salvaguarda dell'ambiente Tutto dipende dal modo in cui le persone la utilizzeranno nella loro realtà quotidiana Questi sono i benefici per la città Busios diventerà Sostenibile In città ci sarà una riduzione significativa dell'impatto ambientale per la diminuzione delle emissioni dell'anidride carbonica e l'aumento delle energie rinnovabili e soprattutto il consumatore più informato sull'efficienza del suo consumo potrà cambiare sostanzialmente le proprie abitudini Razionale La partecipazione attiva del consumatore nella gestione dell'energia favorirà la creazione di una coscienza socioambientale Efficiente Il controllo automatico delle linee di trasmissione e distribuzione governerà i flussi di energia migliorando la qualità del servizio ed evitando la necessità di ampliare la capacità della rete Città intelligente Busios La prima città intelligente dell'America Latina Tecnologia e sostenibilità per costruire la città del futuro